Il telegiornale di Giffoni Non lo so che film Tu che fai di bello? Boh Ti piace più lo zucchero filato o il cinema? Più lo zucchero filato È fidato? Sì Ti piace più lo zucchero filato o il cinema? Il zucchero filato L'hai mai assaggiato il cinema? Sì Cos'è che ti piace di più di Giffoni? Tutto Quanto sei fatto? 2100 come a week Tutto tutto? Una cosa? Tutto Ti piace di più il gelato o il Giffoni? Tutto Alla sera mi fanno mangiare E poi Mi fanno lavorare Tu quali suoi poteri hai? Beh sono Uguale ad Ironman Mi fanno lavorare? E che lavoro ti fanno fare? Cose da grandi Dove vieni? Da Villa Maina Hai salvato Villa Maina? Sì Da che cosa l'hai salvato? Da Dai cattivi Tu Chi vorresti diventare? E una volta che l'ho sconfitto Ho fatto Pim 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 Giffoni Sono tantissimo Tu invece chi vorresti diventare? Eh Come qua? Quella c'ho Che ho tentato Mi fanno Mi fanno Una donna innamorata Una donna innamorata Della vita come me Posso correre ci sfida Come scorre la corrente Posso chiedere al futuro Ti piacerà la gente Posso correre ci sfida Come scorre la corrente Posso chiedere al futuro Ti piacerà la gente Tu non sai cosa può fare Una donna innamorata Una donna innamorata Della vita come me Per te Cosa può fare una donna innamorata? Niente Niente Non ci può fare niente? Niente Innamorata della vita come me Quello che io voglio vivere Quello che potevo vivere con te Quello che io voglio essere Quello che potevo essere con te